Passa in questo momento, è difficile fare valutazione e rispondere alla tua domanda. Ti dico che non so niente, nel senso che se tu in Inghilterra fai il nome di un giocatore di qualità che ti fa peso là davanti, fai il gol di tutta la squadra, sono giocatore di qualità, penso che se fai quel nome, il territorio sportivo è difficile che non si fanno trattative che arrivano ad una concreta realizzazione. Ma non solo la Roma, quindi l'Italia che ha una situazione difficile, un momento difficile particolare, a livello economico, penso che Asmon è un nome che tanto dicono, ma non mi sembra che ho fatto il nome di Asmon, però ripeto, se loro pensano che Asmon è un giocatore buono, per me va bene, non sto più, se poi si parla di altri giocatori di qualità, non entra nei parametri della Roma, ma penso che in questo momento è difficile fare valutazione così su due piedi, quindi spero, spero che sia un altro attaccante per la situazione che abbiamo, questa sì, però chiaramente non posso fare no, ma sono valutazioni che poi farà il territorio sportivo.